Il campanello d'allarme è suonato forte dopo la sconfitta di domenica scorsa con la Filippa Lissandria, ma ci vuole, al solito, equilibrio in tutto anche nelle analisi. Dopo l'addio di Ferrazzoli e la presa di responsabilità di Taccone, uno dei pochi nel mondo del calcio a riconoscere dei propri errori, a differenza di molti altri che hanno gravitato negli ultimi anni nella società occidentana, quasi centenaria, l'Agropoli si appresta ad andare a Francavilla in Signi per affrontare una gara che non può sbagliare. Dopo la botta subita contro l'Altamura, i Delfini collezionarono 5 punti in 3 gare, non subendo nemmeno un gol. La speranza è che possa accadere di nuovo una situazione di questo tipo nelle prossime partite. La classifica, d'altronde, che è quella che delimita le potenzialità o meno di una squadra, è seria, con la squadra in zona play-out, ma non è grave. A parte le prime sette pugliesi, nel generale ci sono squadre attrezzate, ma non c'è nessun Barcellona e nessun Real Madrid. In attesa dei rinforzi di prestigio, già alcuni nomi sono stati fatti nei giorni scorsi, l'Agropoli deve arrivare a dicembre con più punti possibili. In panchina, al Fittipaldi, andrà il vice Fiorillo questa domenica con il nome del nuovo allenatore che dovrebbe essere annunciato la prossima settimana. Si era fatto il nome dei due Zeman, a padre o figlio, e di Gigi Squillante, ma in realtà è il favorito non orbito in questi nomi. Probabilmente dovrebbe essere Aiello, il nuovo allenatore dell'Agropoli. In ogni caso, c'è una partita importantissima a riparare al massimo. Geni del Prete, che ha preso il posto di Lazici al Francavilla e sono errato dopo oltre un decennio in una squadra sinica, non ha modificato molto il gioco dei Lucani, che perseguono dunque il loro 4-3-3. Non è resistibile il potere under 11, l'estremo difensore che deve ancora crescere, ma abbastanza esperto alla retroguardia. Cabrera e Dorsi sono i due centrali, Dorsi lo ricordiamo anche con la maniera della Gelbison, e Nicolao a sinistra, con l'under a Bentivegna, spesso schiena a destra. Buona la linea di centrocampo, con le geometrie di Thomas Grandis, l'argentino da due anni in maniera rosso-blu, lui che ha giocato anche in Svezia. Interessante anche il nevato offensivo, con il tandem dell'esperto Nolè e Maggio, il primo ex Reggiane e Ternana, il secondo interessante in maglia Gelbison e Frattese. Nel Francavilla c'è anche un grande ex, Maione, Vincenzo Maione infatti fece bene due anni fa in maglia del fine, nel campionato di eccellenza. L'Agropoli potrebbe schierare un prudente 4-4-2, come avvenne con il Bitonto, o continuare nel 4-3-3. Questo si scoprirà soprattutto nella rifinitura di domani. Nel secondo caso, davanti a Sanchez, nella difensiva, 4 dovrebbe essere composta da guida a buon fine sgambati a costa. Acunzo potrebbe giocare in una posizione più arretrata, dove giocò discretamente anche contro la Gelbison, con una saccata e danfa ai suoi lati. In attacco, Vincenzo Agare dovrebbe tornare dal primo minuto, dopo che ha smaltito il problema fisico. Probabile che agisca accanto a Buonocore, mentre sono da valutare le condizioni di Camarà, assente domenica scorsa. Abitare il match alle Gretta di Molfette e suoi assistenti saranno Cozzuto, Di Formia e Serra di Tioni. Fischio di inizio nella partita di domenica 20 ottobre alle ore 15. Fischio di inizio nella partita di domenica 21 ottobre alle ore 15. Fischio di inizio nella partita di domenica 23 ottobre alle ore 15. Grazie a tutti.